Buongiorno a tutti, spero che il pranzo non sia stato eccessivamente abbondante perché sarò particolarmente palloso e vi racconterò quello che ho fatto negli ultimi dieci anni nella mia vita, più o meno, come hobby. Tenete sempre presente che tutto di cui parlerò per me è un hobby, lavoro da un'altra parte. Chi sono? Sono Francesco Fullone, sull'internet gli elders mi hanno chiamato Fullo e ho un'azienda che si chiama Ideato, ne sono founder, è CEO, faccio cose, vedo gente, creo situazioni. Faccio cose, vedo gente da una parte, creo situazioni dall'altra col Grusp, associazione di cui sono presidente da 6-7 anni circa. associazione che nasce come gruppo, è un acronimo bruttissimo che significa gruppo utenti sviluppatori PHP. Quindi sul filone dei Linux user group intorno a dieci anni fa, dalla mailing list di ZioBud su PHP nasce questo gruppetto di persone che si trova bene insieme e decide di fare qualcosina di più. L'associazione è una no profit, non abbiamo una sede, anche perché il direttivo è sparso per l'Italia, Unine, Ferrara, Verona e Faenza, dove abito io. Abbiamo più di 300 membri attivi in Italia, in realtà i membri, i soci sono molti di più e sono sparsi su tutto il territorio europeo. promuoviamo le buone pratiche di sviluppo e qualche meeting in quella. Perché nasce l'associazione? Tendenzialmente perché dieci anni fa ero un freelance alle prime armi, alle prime armi ma comunque voglia di fare cose fighe come penso ognuno di noi abbia e con l'interesse, almeno la curiosità di partecipare a conferenze all'estero dove si vedevano le cose fighissime che all'epoca c'erano. PHP era ai primi albori, tecnologia bellissima, tutti installavano PHP Nuke, per quanti di voi se lo possono ricordare, WordPress non esisteva, si chiamava B2 qualche anno dopo. e lavorando come freelance, per iniziare a lavorare su progetti un pochino più grandi del sito del macellaio, dovevo trovare qualcuno con cui collaborare. La ricerca di questo qualcuno è sempre stata drammatica, nel senso che magari sulla carta, sul curriculum la persona era bravissima, aveva fatto chissà che cosa, in realtà fisicamente era un copio incollatore di codice e si fermava lì. Quindi problemi nuovi, ah non trovo niente sul forum di PHP, di html.it non so come andare avanti. Quindi ci siamo guardati un po' negli occhi, tra il piccolo gruppetto che si è creato nel newsletter di The Buddha, nella playlist di The Buddha, abbiamo detto, oh, cerchiamo di creare un ecosistema decente per il mondo web e PHP. Perl, che all'epoca era nel massimo splendore, aveva iniziato a organizzare conferenze, eventi in Italia, a creare delle regole di lavoro ottimale, ad avere i primi repositi di C-PAN, quindi cose importanti e noi PHP-isti invece eravamo un manipolo di un'armata barancaleone che si guardava ad essere sinistra senza sapere dove andare. Quindi, da bravi italiani, che sappiamo fare tendenzialmente due cose, mangiare e trovarci bene insieme per cercare un posto dove andare a mangiare, abbiamo deciso di organizzare un evento, con lo scopo di poi fare una cena tutti insieme. Questo evento, la cui prima edizione, se non ricordo male, è stata qui a Roma, era PHP Day, proprio nel massimo splendore Linux Day ovunque, noi chi siamo per non fare qualcosa a Day? Cosa che poi ci è rimasta nel tempo. e abbiamo deciso di organizzare questo evento, questo evento che doveva essere gratuito in italiano per attrarre le persone da tutta Italia e per la community. Ci siamo detti, può funzionare, può andare avanti, può diventare qualcosa di veramente bello. Dopo C-Dinque edizioni fatte su queste modalità, due a Roma, una a Rimini, una a Bari e un'altra a Verona, l'abbiamo dovuto dichiarare un parziale fallimento. Perché un parziale fallimento? Beh, perché innanzitutto era una conferenza gratuita, una conferenza gratuita porta ad avere il 40% di drop off delle persone, degli iscritti. Significa che se io ho mille iscritti, in realtà alla conferenza mi se ne presenteranno 600. Capite che da un punto di vista logistico, trovare una venue che mi permette di ospitare mille persone è molto, ma molto più complesso di una da 600 e anche molto più costosa. Non eravamo abbastanza interessanti per attrarre i guru di PHP, le PHP web star internazionali e quindi alla fine ci ritrovavamo sempre noi a guardarci in faccia raccontarci le stesse cose. Inoltre, molti dei talk erano, va bene per la community, ma come installare PHP Nuke, che poi è diventato come installare Mambo, che poi è diventato come installare Joomla, che poi è diventato come installare Wordpress. Insomma, non eravamo soddisfatti. E in tutto questo noi eravamo tendenzialmente limitati dal budget. Cioè, avere un budget per gestire una community del genere, non avere un budget per gestire una community del genere era sicuramente controproducente. Quindi, in quella che oggi tutti chiamerebbero Lean Startup, ottica Lean, quello che vi fare e che io uso perché è fighissimo utilizzare delle buzzword nelle proprie conferenze, nei propri talk. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, sì, vabbè, però come possiamo migliorare? Abbiamo imparato delle cose, mettiamole in pratica. Ok, quindi teniamo le cose buone. Le cose buone sono una conferenza per una community, ma una conferenza per una community di professionisti. Quindi non più hobbysti che utilizzano PHP per proprio diletto, ma professionisti che lo vogliono fare per lavoro. Quindi il focus leggermente è cambiato. Un pivot, se vogliamo usare un termine da startup. Questo significava basta con i ticket gratuiti. Basta con i ticket gratuiti fa arrivare una marea di benefit, tra cui una miglior venue da prendere. Quindi abbiamo abbandonato l'università come ospiti, non tanto perché non ci piacesse andare nell'università, quanto perché la burocrazia per noi che eravamo alla fine quattro disperati per gestire una conferenza in un'università, in cui nessuno di noi aveva dei contatti, era talmente alta che ci faceva perdere un attimino la vista su quello che ci interessava veramente, la qualità dei talk. Ci ha permesso di invitare speaker stranieri pagandoli e ci ha dato budget per altre attività. Inoltre, cosa non indifferente è stata la scelta dell'inglese come lingua franca della conferenza. Ovviamente non è un processo che, ok, oggi tutto in italiano, domani tutto in inglese. Avremmo ucciso quel poco di comunità che stavamo facendo crescere e ci saremmo tendenzialmente dati la zappa sui piedi. Quindi, in un processo lungo dieci anni, siamo arrivati l'anno scorso, prima edizione, ad avere una conferenza interamente in inglese. Interamente in inglese, ma con speaker italiani, anche italiani. È importante questa cosa qui, perché avere speaker anche italiani che parlano in inglese, fanno vedere al resto del mondo, ci siamo anche noi. Avere conferenza in inglese ci ha permesso di attrarre nuovi attendii, non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Di introdurre i nostri speaker a persone, ad aziende estere e di facilitare sinergia internazionale, che detta così sembra molto pomposa, però molti dei nostri speaker sono finiti ad essere CTO in startup all'estero, hanno finito per essere assunti con ruoli importanti all'estero per corporazioni di buon calibro e hanno potuto, in questo modo, ridare indietro alla comunità quel poco che la comunità era riuscita a dare a loro nel tempo. Nell'arco di dieci anni siamo arrivati ad una conferenza che faceva circa 200 persone gratuite, ad una conferenza interamente a pagamento, con 500 ticket venduti per edizione e circa 300 persone al giorno. Rispetto al Code Motion siamo piccolini come evento, ma anche volutamente piccolini. Un'altra delle regole che ci siamo dati è uno speaker ogni 30 persone. Questo permette di far mischiare gli speaker e gli attendii e quindi di farli parlare tra di loro. Nel 2011 abbiamo iniziato a fare un po' di esperimenti sulla community. Vediamo adesso come. Riprendiamo il cerchio magico Lean, imparare, fare e ripetere. Abbiamo organizzato qualcosa, abbiamo trasformato la nostra community in inglese, ma i junior, la community di community, non la community di professionisti, aveva perso uno strumento per imparare e crescere professionalmente. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato quello che è stato chiamato il programma Pug. Il programma Pug, PHP User Group, sempre con pochissima fantasia, siamo informatici, non siamo creativi. Non è altro che la delocalizzazione del GRUSP su più città dando al singolo Pug locale autonomia di gestione, totale autonomia di gestione e coordinamento solo per quelle attività più istituzionali, come ad esempio le conferenze. C'è un pochino di gente del Pug Roma qui, se puoi alzare la mano, grazie di essere qui. Questi sono alcuni dei Pug più attivi, in realtà ne abbiamo una dozzina oggi in Italia. Avere dei Pug locali ci ha permesso di avere della logistica, della mano d'opera locale, anche se sembra brutto da dire, per organizzare eventi più piccolini, quindi non solo il PHP Day, evento grande, ma eventi più piccoli, molto verticali, molto verticali su uno strumento, Symfony Day come è stato organizzato l'anno scorso qui a Roma, piuttosto che Zen Framework, piuttosto che AngularJS che è stato fatto a Lancona qualche settimana fa. E eventi molto più economici, ma sempre non gratuiti, nell'ottica di abbiamo un po' di budget e possiamo investire nel far arrivare anche speaker di un certo calibro. Questo ci ha permesso anche di avvicinare le aziende locali. Avvicinare le aziende locali significa dare un bacino di sviluppatori che sono alla ricerca e, dall'altra parte, dare un lavoro agli sviluppatori, freelance e non solo, che lo stanno cercando. Sempre nell'ottica di dar qualcosa indietro alla community italiana, la community quella non di professionisti, abbiamo iniziato a scrivere e tradurre dei libri. Abbiamo tradotto tutta la documentazione di Symfony e questo in gran parte grazie al Pug Romano che è tra più attivi. Abbiamo scritto due libri, uno su PHP, best practice, e uno su JavaScript, best practice, anche qui noi fantasia zero, non chiedeteci. E questo ci ha permesso di portare un po' di conoscenza e competenza su quelle che, se all'estero vengono viste come un qualcosa di base, in Italia sono invece viste come il miracolo di San Gennaro. E quindi, ok, ha funzionato finora tutto quanto, abbiamo imparato, abbiamo fatto, iniziamo a ripetere su larga scala. Da bravo sviluppatore PHP, bravo perché ho imparato le buone pratiche, le metodologie, ho conosciuto casi di studio di progetti importanti, li ho potuti riapplicare sui miei anche se più in piccolo, ho imparato a sviluppare ad oggetti bene, pattern, test, tutto quello che volete, però mi scontro con il frontendista, il frontendista non sa lavorare, non riesco, il grafico, il grafico mi da il PSD ma poi non ci posso fare niente, il manager. E quindi ci siamo detti, vabbè, la community PHP sta andando bene, come possiamo migliorare l'ecosistema della community PHP? È un ecosistema ampio, non include solo gli sviluppatori, un ecosistema include tutto quello con cui gli sviluppatori hanno a che fare. Ecco quindi che nel 2011 per alzare un attimino il livello delle attività abbiamo creato il JS Day, quindi una conferenza interamente dedicata a JavaScript, così come il PHP Day, così come il PHP Day con totale assenza di fantasia. JS Day che dalla prima edizione fa sold out, per nostra fortuna, e che ci permette di portare sul lato frontend tutte quelle buone pratiche di sviluppo che il lato back-end ormai da sei anni, sette anni stavamo portando con successo. Da qui la crescita del GRUSP sulle attività, sulle conferenze è stata esponenziale. Anche i JS Day interamente in inglese ci siamo guardati e abbiamo detto va bene, però adesso dobbiamo parlare con chi fa il design. Con chi fa il design siamo partiti un attimino più defilati, creando una conferenza che si chiama Kerning, e qui fortunatamente abbiamo un nome che non è Day, che tendenzialmente è sulla web typography e sullo studio delle user interface. anche questa interamente in inglese, anche questa a pagamento, la prossima sarà a giugno a Faenza, e che sta attirando, la prima edizione che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno ci sarà la seconda, sta attirando l'interesse da tutto il mondo, tant'è che l'altra conferenza di riferimento che Ampersamp ci ha citato come miglior conferenza emergente sul settore. Quindi abbiamo, ok, PHP-isti lavorano bene, frontendisti lavorano bene, i designer ci stiamo lavorando, ci manca tutto il middle management o il management. le classiche persone che ci vengono in ufficio, o nello scantinato, dipende dove siete stati piazzati, e ci dicono, ok, io devo fare una cosa molto semplice, Facebook, ma rosa, domani. Ecco, su questo fronte abbiamo, non abbiamo creato noi la conferenza, ma abbiamo aiutato e quasi preso le redini di un'altra conferenza che è Better Software, preso le redini da un punto di vista organizzativo, lasciando però all'interno tutte le persone che hanno portato grandissimo valore all'evento a gestirne i contenuti, e dall'anno scorso la conferenza che comunque trattava molti temi tecnici si è spostata leggermente, ha shiftato leggermente, portando sì argomentazioni tecniche, ma per il management, per il management dell'ambito IT, per il management di chi deve fare user interface, ma anche per chi deve fare finanziare startup e così via. Quindi abbiamo cercato di migliorare l'ecosistema in cui stiamo vivendo. Non ci bastava, non ci bastava e nell'ultimo anno abbiamo organizzato altri 15 eventi. Questa volta più piccolini, quelli in italiano dei pug, e si va dal, andando i primi che mi vengono a memoria, Symfony Dezen, Framework Day, AngularJS, NoSQL Day, WordPress Day, e abbiamo iniziato a collaborare con un paio di gruppi locali, anche per lavorare in ambito DevOps. E quindi abbiamo organizzato due edizioni del, non si chiama DevOps Day, si chiama Incontro DevOps Italia a Bologna, e che anche da questo punto di vista ci ha dato abbastanza soddisfazioni, non solo nell'afflusso di persone, ma anche nel modo in cui queste persone si sono relazionate poi tra di loro. Quindi, come più o meno anticipato prima, abbiamo negli ultimi 10 anni applicato quella che è una pratica molto lean del lavorare. Abbiamo avuto un'idea che era basata sul nostro problema, trovare bravi sviluppatori. Abbiamo costruito qualcosa su questa idea, un evento. Abbiamo misurato quello che stava succedendo nei nostri eventi, come stavamo migliorando l'ecosistema. Abbiamo imparato da questi dati e abbiamo costruito su nuove idee, abbiamo avuto nuove idee e costruito nuove idee. Io ho finito. Se avete domande sono rimasti 10 minuti scarsi. Giusto? Abbiamo tantissime domande, quindi possiamo aprire un panel. Domande? Nessuna. Io ho spiazzato. Che bello, che bello. Sì. Intanto faccio pubblicità progresso. Qui a Roma abbiamo un'altra community che è il Jack Roma, che dovrebbe essere la source del Code Emotion. Ma il Jack Roma è morto. Qualche piccolo consiglio per riavvivarlo? Allora, questa è una domanda che mi fanno abbastanza spesso. Io ho un approccio molto olistico alle community. Tendenzialmente credo che una buona dittatorialità nella gestione di una community sia la base sana per farla nascere. E' ovvio che, tra virgolette, il dittatore che si butta in questa avventura lo deve fare con lo spirito di migliorare la community, non di guadagnarci, portarci dentro la sua azienda e quant'altro. Quindi avere una visione nel tempo di quello che c'è da fare aiuta sicuramente. Noi col GRUSP avevamo una visione unica. La nostra visione era vogliamo migliorare il nostro ecosistema lavorativo, vogliamo lavorare meglio. Intorno al GRUSP sono nati tantissime aziende, micro imprese, che poi hanno portato i valori che abbiamo cercato di dare ai loro clienti, ai loro dipendenti e in giro. Poi ci sta che una community ad un certo punto muoia. Cioè, quanti Linux User Group sono morti. Non bisogna affezionarsi. Noi, una cosa che stiamo notando sempre di più con il programma Pug è che i Pug vengono tendenzialmente portati, in ogni Pug ci sono dalle 30 alle 50 persone. I Pug vengono portati avanti da tre persone. Se queste tre persone per qualsiasi motivo un giorno, cioè il giorno in cui si deve organizzare l'incontro, non ci sono, l'incontro salta. Questa è una cosa che stiamo notando ovunque. È un problema? No. Assolutamente. Cioè, non è un lavoro. Deve essere una passione che ti porta a darti qualcosa indietro, lavorare meglio. Dall'altra parte, un'altra cosa che stiamo notando è che fare dei gruppi che siano assolutamente verticalizzati su qualcosa oggi ha poco senso. Tant'è che i Pug, personalmente, li sto sempre più vedendo come programming user group che come PHP user group. Perché, come il Pug di Roma mi dice, si parla di JavaScript, di PHP, metà di loro sono nel gruppo di Go, l'altra metà è su quello di Node.js, c'è un terzo che sono in Arduino. Quindi è difficile dire, ah, ma io con te non ci parlo perché te parli Java. Vabbè, te parli Java, con te non ci parlo. Però il succo è sempre quello di condividere tra tutti quanti. e quello che col GRUSP stiamo cercando di fare è di dare una metodologia di condivisione. Poi ognuno può condividere come meglio vuole. Poi, ripeto, il mio approccio personale è sempre quello di essere un attimino con carota e bastone. Dove la carota sono i contenuti che cerco di portare a tutti, il bastone sono le modalità con cui voglio organizzare gli eventi. voglio che siano organizzati gli eventi perché, come ho detto prima, i Pug sono indipendenti nel fare le cose tranne che nell'organizzare gli eventi. In dieci anni abbiamo imparato un po' di cose, queste un po' di cose sono che sulla qualità degli speech non si può lavorare, non si può discutere. E allo stesso modo sulla semplicità delle persone di raggiungere l'evento non si può discutere. quindi mettere nell'evento un milione di cose dal mio punto di vista è controproduttivo. Meglio fare una cosa mirata che funziona bene, sono l'inna dentro proprio, una cosa sola che funziona bene e poi i risultati li vedi. Vedi gente che è contenta di perdere una serata a giocare con l'ultimo framework PHP piuttosto che saldare su Arduino e cose del genere e a condividere questo genere di informazioni. Un trucco che è molto utile è che, tipo, io vivo a Cesena, cioè vivo a Faenza, lavoro a Cesena, a Cesena e in Romagna non c'è un PHP user group. Un po' perché non è che posso far tutto, un po' perché nella mia azienda è nato un extreme programming user group che sta sempre più diventando il gruppo di cosa mangiamo questa settimana. E ci sta, nel senso, lo scopo, uno dei trucchetti è, ci diamo una data fissa. L'ultimo giovedì di tutti i mesi, chi c'è c'è. L'appuntamento è lì, chi c'è c'è. Poi, due o tre giorni prima, quando si accura una settimana prima, si decide l'argomento. Se non c'è l'argomento dell'unico talk che si fa, se non c'è nessun argomento, si decide dove andare a mangiare. Punto. E la gente è felice di venire, è felice perché comunque se non impara come utilizzare Vagrant con Esi, comunque durante il pranzo e la birra può dire all'altra persona che vede una volta al mese oh, io ho sto problema con il cliente, tu che fai cose simili, mi puoi dare una mano? Sì. Ed è questo il vero valore. Lo scambio delle competenze e lo scambio delle conoscenze. Certo. E devi registrare. Allora, ciao. A Roma la situazione è abbastanza chiara. Noi siamo fortunati perché abbiamo le persone che hanno iniziato a frequentare il GRUSP, a fondarlo di base, che sono persone molto motivate e molto competenti. Quindi, anche quando eravamo in 5-6 all'inizio avevamo persone di rilievo che ci spiegavano le cose e noi siamo stati molto illuminati da persone che facevano il codice con i test. Cacchio, cioè il Romei adesso vaga per tutta Italia spargendo questa cosa, però, insomma, era da te che prendeva queste cose e le riportava a noi. È stato un modo di programmare nuovo, ci siamo appassionati. E c'è stata una selezione naturale per capire chi doveva portare avanti le retini del GRUSP locale oppure siete andati, come si dice a Roma, un po' a braccio o altri organi limitrofi? Allora, l'altra regola segretta del GRUSP è che chi propone fa. Quindi, se una persona propone, fa e non discute, non è che dice si potrebbe fare questo e finisce lì. No, se dici si potrebbe fare questo lo fai e stai zitto. Questo è uno degli approcci dittatoriali che ho. Il chi propone fa, al secondo round di stai zitto e non discuti, quindi qualcuno che inizia a fare veramente, porta degli ottimi risultati, perché sono veramente motivato per fare questa attività. Abbiamo una dozzina di pug, in realtà noi ne abbiamo creati una ventina, gli altri sono morti. È un problema? No. Perché quando qualcuno vorrà rifare il pug in quella città, alzerà la mano e dirà vorrei fare il pug. La mia risposta o la risposta di qualcun altro direttivo sarà lo vuoi fare tu e lo organizzi tu o vuoi cercare qualcuno che lo faccia? Se non lo vuole fare lui non si farà, punto. E questo sta funzionando in tutti i pug, perché chi propone fa, c'è una regola che non lascia scampo a nessuno. No. Deve avere la voglia di fare. Se non sa fare impara. Perché una cosa che noi non abbiamo paura è di dare una mano, un aiuto, spiegare le cose. Le prime volte che nasce le prime riunioni di un pug, uno del direttivo o comunque uno di un altro pug ci va a dare una mano, a fare il talk, perché comunque internamente magari non hanno le capacità e le conoscenze. Quindi, cioè, è sempre un qualcosa di, a scopo di volemose bene community, però mirato a uno scopo. Poi, se nessuno ha voglia di fare, si chiude. Cioè, non è problematico. Non è problematico. E anche a livello di competenze. Non è detto che un pug deve sempre parlare dei massimi sistemi. Se il pug di una città piccolina non riesce a parlare di argomenti più alti, di come ti installo Wordpress, va bene, va bene, fin tanto che le persone del pug abbiano voglia di creare uno spirito di comunità intorno a degli argomenti. perché una volta che ci si confronta aumenta anche la curiosità e quindi hai modo di imparare cose nuove. Dai, abbiamo tantissimo tempo. Grazie. Va bene, va bene, non c'è problema, c'è problema. Quanti di Roma? Ok. In cosa sviluppate? Python? C Sharp? C'è un gruppo C Sharp? Eh, ma io ti stavo facendo una marchetta. Comunque... Andate dagli Uggio. Fa tutto. Lui è dentro quello di Go. È dentro quello di PHP. Sei già Node? Sei dentro Node? No, no. È uno di quelle persone che fa. Quindi... Al Puggeroma facciamo molti incontri che non parlano di PHP. Al Puggeroma facciamo molti incontri che non parlano di PHP. Abbiamo fatto dei kata, abbiamo fatto... Soprattutto proponiamo metodologie. Quindi uniamoci. C'è l'importante della passione, sì. Ok, uniamoci magari. Prendetelo con le pinze. Anche a livello di cose. Sì. Allora vedi, partono le domande. E... Io... Fullo adesso girati, ma io sviluppo in Java. Non in PHP. Ma pure mia moglie, quindi... Eh, me l'avevi detto. Però vado al Pug, perché comunque ho spunti interessanti di quelle che sono le nuove tecnologie. Cioè, io devo stare al passo con quello che succede nel mondo. Se lavoro in un'azienda triste, noiosa, che mi fa sviluppare solo in Java, non mi fa vedere lo sviluppo per testa. Io, per tenermi al passo, vado al Pug. Perché si parla di tante cose. Quante persone lavorano in aziende triste, noiose, che non guardano le cose nel mondo? Perché non andate al Pug? Ciao. Ciao. Allora, prima una piccola introduzione. Io... Anch'io sono molto appassionato delle community. Sono di Livorno. E quindi ho dato vita a due community in Toscana. Eh... In sequenza, diciamo. La prima, verticalizzata sul mondo Microsoft, perché lavoro in C-Sharp. È stata un po' più un fallimento proprio per la verticalizzazione. C'erano problemi di questo lo possiamo fare o quello no in base al brand, eccetera. Da qui ho imparato, ho detto, mai più lo stesso errore. Da settembre abbiamo creato il Coders Toscana User Group, per dare un nome generico per unire il programmatore della Toscana. Abbiamo fatto eventi su No Estimate, abbiamo fatto eventi sul testing in generale, ne vogliamo fare sul No GS. Abbiamo sconfinato e siamo venuti a Bologna. Abbiamo fatto un Code Retreat nel Global Day del Code Retreat e a maggio faremo un Code Retreat Legacy. Sì, vogliamo tornare a Bologna, perché a me è un punto un po' più centrale, possiamo avere, come dire, più persone e condividere maggiormente le esperienze. Invece rimanere solo nella nostra zona è un po' riduttivo. Quanti di Toscani? Qualsiasi... Perché non date a lui? Venite, venite, le porte sono aperte. Grazie per lo spazio. Chi ha un'altra community? A posto, dai. Sì? Arrivo, arrivo. Per mantenere i contatti, soprattutto online, cosa usate? Perché io sono uno di quelli disamorati del gioco Roma. Sì. Perché soprattutto, diciamo, i contatti online si mantenevano tramite una mailing list. Però questa mailing list, io ho provato a leggerla durante la giornata di lavoro, ma era impossibile. Perché o facevo quello o lavoravo. Allora ho provato a leggerla la sera, ma era talmente piena che arrivavo a mezzanotte che ancora non avevo finito di leggerla. Allora, il GRUSP ha tendenzialmente una mailing list fatta da troll che si flemmano tra di loro. Però io faccio parte di quella che... Stessa cosa. Però attenzione, non parliamo di tecnologia, proprio ci infamiamo. Ma per il gusto di farlo, questo tiene un po' viva la community. Tendenzialmente ogni volta che si annuncia un nuovo evento qualcuno dice, ma come l'ho fatto a pagamento? E tutti li insultano. Ogni volta che qualcuno offre un lavoro, uno dice, eh ma non mi sta dicendo dove, che contratto, che tipologia e tutti li insultano. E quindi però c'è un'unione di gruppo, nel senso c'è proprio spirito di gruppo nell'insultare il povero disperato che dice qualcosa. E, scherzo a parte, noi usiamo una mailing list interna su cui si parla di cose un pochino ad alto livello. Poi ogni user group ha le sue mailing list più locali di coordinamento e di gestione. Quando qualcuno chiede qualcosa, cose magari troppo di basso livello, come si installa X oppure A o B, normalmente la risposta è leggeti la fottuta documentazione, proprio in questi termini. Oppure, ultimamente non sta girando l'acronimo, oppure si indica a dei link da studiare. Però, veramente, nella mailing list interna del group, non ci sono tutti i soci, ci sono soltanto quelli che fanno. Perché? Perché dopo dieci email che arrivano, molti si disiscrivono e chi rimane sono quelli veramente che ci credono fino in fondo. Però, quello permette di avere uno spoluto gruppetto, chiamiamola elite, anche se sembra brutto, a livello di community, volevamo se bene, però un'elite di persone che sarà poi quella che evangelizzerà il modo di operare dell'associazione. Quindi, il tenersi in contatto dipende da che livello. Cioè, vuoi parlare di roba tecnica? Stai in una newsletter tecnica. Vuoi parlare di roba dell'associazione? Quello è il posto corretto. Cioè, siamo molto liberali, fate come vi pare, cioè, è molto così. Sì? Hai parlato di test driving development. Io no, lui. Testing. Testing. Posso farci una domanda in generale sul TDD? Sì? L'esempio che si fa di solito è, devo sommare due numeri, mi faccio la funzione e mi vedo... No, 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 quella è una domanda che devi fare a lui. Ok. Io non... Magari fuori da un talk sulle community parlate di TDD, però sulle community di TDD, cioè, io non faccio il test sulle persone. Se lo facessi, non avrà una community. Vabbè, la faccio dopo, gliela faccio. Scusami. Ho imparato modi subdoli di insultare la gente. Scusami. Scusami. Ciao. Ciao. Ciao una community e sto tentando di dargli... Di smettere, no. No, anch'io sono un alcolista. Il GRUSP è strutturato? In che modo? Il GRUSP è un'oligarchia fatta di quattro persone che dall'alto impongono una metodologia di lavoro. Ok. Poi ogni Pug è un'oligarchia fatta da quattro, cinque persone che dall'alto impongono una metodologia di lavoro. È scalabile, quindi. È scalabilissimo. Siamo... Abbiamo tante cellule dormienti. Ok. Ma quindi se io domani arrivo e dico voglio essere membro del GRUSP, del Pug, eccetera... Certo, diventi socio, basta. E poi... Ok. E poi se vuoi iniziare a fare route escalation, devi iniziare a fare. A fare nei Pug locali, poi man mano che escalali nei Pug locali, nel GRUSP, non arriverai mai perché comunque è un'oligarchia fatta di quattro persone. È chiaro, no? Al massimo fonderò la mia piccola oligarchia fatta di altre quattro persone. E tu pensa, noi ti aiuteremo sponsorizzandoti, aiutandoti a fare eventi. Sì, sì, è una struttura d'albero. Che fai scaffolding. Funziona così. Ripeto, le mie idee sulle community sono un po' radicali, però mi pare che qualcosina funzioni, quindi... C'erano altre domande? Abbiamo tre minuti, tipo, prima della fine, quindi... Non è che voi tornate a casa con oddio non gli ho chiesto questa cosa, come posso collaborare nella community, nel mio ufficio, con i miei colleghi? Ok, qualsiasi domanda sul TDD c'è giugio. Grazie. 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 Grazie.